salve a tutti e benvenuti nel mio canale sull'ultimo blog di tag medicina abbiamo affrontato un annoso problema quello della somministrazione di farmaci inibitori delle 5 fosfodi e serasi cioè di farmaci che possono migliorare o sopportare la nostra elezione le vie di somministrazione classica sono quelli orali sappiamo esistono anche oggigiorno delle formule sublinguali come ad esempio il rubstrom il sider un sildenafil sublinguale come anche le iniezioni locali chiaramente da non proporre immediatamente al paziente ma solo quando i farmaci orali non funzionano tra le vie di somministrazione quella che potrebbe sempre interessare è la via transdermica e transcutanea fino ad oggi non ci sono state possibilità di effettuare questa somministrazione semplice e che sicuramente anche più come posso dire performante a livello di assorbimento che non quella orale dove vi è una grossa dispersione a livello gastrointestinale gli ultimi studi utilizzando un derivato naturale della vitamina e sono riusciti a far sì che questa molecola naturale e tipi gs molecola è chiaramente che non descrivo per le mie incompetenze a livello chimico ma in grado di attraversare la parete cutanea di avere quindi un'azione transdermica fare un po da trasportatore questa molecola e diciamo così attiva a livello termico è stata associata alla vanafil una molecola utile come tutti sappiamo per l'elezione si è visto come la biodisponibilità e il suo assorbimento fosse molto efficace paragonabile a quello orale ma con dei risultati sicuramente migliori perché non vi era poi la dispersione che abbiamo a livello gastroenterico per il momento è tutto sperimentale sulla cavia ma è molto vicino il passaggio poi a livello di sperimentazione umana non ci sono stati gli effetti collaterali che sono farmaci ormai codificati da più di vent'anni sicuramente quindi una una via di somministrazione per molte persone più pratica utile e prima di effetti collaterali bene con questo vi saluto auguro a tutti una buona giornata ci vediamo al prossimo video